dai scendi bravo allora Gohan vedi che fuori c'è maltempo ha piovuto comunque ora non sta piovendo possiamo andare a fare la passeggiata vieni vieni che dici Gohan facciamo così andiamo dallo zio Pasquale così lo zio Pasquale ti dà più sottino vieni vieni andiamo dallo zio Pasquale andiamo andiamo di qua vieni andiamo di qua no no vai più avanti vai più avanti bravo bravo ok bravissimo si si avete sentito cari amici questo è il saluto questo è il saluto di Gohan il saluto che è da tutti voi un caro saluto da Giacomo e un caro saluto da Gohan il vostro caro amico fino a stamattina anzi fino a ieri c'era un coldo sembrava di stare già in estate ora la temperatura si è passata e sembrava di stare in primavera andiamo 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 bravo bravo bravissimo ora stiamo andando dallo zio Pasquale lo zio Pasquale è bravo e buono con Gohan a Gohan gli dà il prosciuttino e Gohan è felice di andare al zio Pasquale ora lo zio Pasquale si trova al quartiere Libertà si trova sulla piazza del Redentore e ora stiamo per attraversare la piazza del Redentore siamo quasi arrivati e così pian pianino ci avviamo alla pizzeria dello zio Pasquale piano piano attraversare dobbiamo stare attenti Gohan per attraversare la strada ora piano piano ci avviciniamo alla piazzetta questa è la piazzetta del Redentore alla mia sinistra c'è la scuola elementare Don Bosco alla mia destra c'è l'oratorio Salisieno l'oratorio vedi qua con noi no vedi qui andiamo di qua bravo mettiamoci qua e alla mia sinistra la mia destra c'è la chiesa del Santissimo Redentore questa che voi vedete lì fronte fino ieri questa piazzetta era piena piena di famiglie di bambini che stavano costruite da poco prima qua c'era dove sto io ora c'era una strada che collegava dritto ciao ciao Gianico a carezza Gohan hai visto Gohan che bello? sì ciao Gianico ecco un bambino che conosce Gohan ora Gohan si sta grattando ora Gohan mi sta portando alla pizzeria dello zio Pasquale lo potrei anche lasciare da solo a Gohan subito andrebbe dallo zio Pasquale la conosce a memoria la strada questa è la chiesa guardate quanto è bella è la grande questa chiesa ha cento anni questo è l'oratorio si è uscito